La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe. Ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Grazie.